Partiamo dal presupposto che al momento il rischio è vero che è sensibile ma non è elevatissimo, nel senso che a livello provinciale i focolai sono ben circoscritti, quindi è difficile pensare che le cose ci sfuggano di mano solo perché aprono le scuole. I genitori devono sapere che, come poi hanno già fatto quando hanno fatto l'iscrizione dei propri figli, c'è un patto di corresponsabilità forte tra la scuola e i genitori. I genitori devono monitorare i sintomi dei propri figli, avere un rapporto diretto con il proprio pediatra, proprio medico di medicina generale, che in questa fase hanno assicurato un monitoraggio costante dei propri assistiti e nel caso in cui compaiono dei sintomi anche aspecifici, cioè la febbre, la febbre con un po' di tosse, la congestione nasale, sono tutti sintomi che vanno un minimo indagati prima di entrare a scuola. È il motivo per cui si chiede ai genitori ogni giorno, ogni mattina, di misurare la temperatura ai propri figli per evitare che scappi qualcuno che ha pochi sintomi e entri a scuola e possa diffondere il nuovo coronavirus all'interno della classe. I genitori devono sapere che c'è una rete molto forte tra scuola, la medicina territoriale, cioè i medici di medicina generale e i pediatri e il dipartimento di sanità pubblica. Non esistono sintomi che sono, si dice, patognomonici, cioè sintomi che descrivano sicuramente questa malattia. Quindi la cosa che bisogna fare è riferirsi al proprio pediatra, al proprio medico di medicina generale che cercherà di capire qual è il rischio reale di coronavirus in quella situazione, in base all'andamento epidemiologico della regione, in base al rischio proprio della famiglia. Un familiare di un lavoratore che lavora in certi tipi di ambiti è più a rischio rispetto a qualcuno che magari fa smart working. Quindi un bambino o un ragazzo che presenta sintomi va valutato non solo sulla base dei sintomi, ma sulla base di tante informazioni che i medici devono raccogliere. Una volta che hanno deciso che il sospetto è abbastanza ragionevole per individuare, per indirizzare al tampone, allora l'unico discriminante per sapere se siamo di fronte probabilmente a un coronavirus oppure no è il risultato del tampone nasofilogico. La patologia del Covid è molto sovrapponibile a quella delle comuni virosi stagionali, però vorrei proprio che le famiglie si sentissero molto tranquille, sufficientemente tranquille, perché se è vero che la pandemia c'è ancora, il virus circola, però i bambini, soprattutto i più piccoli, o non ammalano, o se ammalano, ammalano in modo molto lieve, con sintomatologie molto lievi, o addirittura sono asintomatici. Quindi non è tanto un pericolo per i nostri bambini quanto il problema di individuare precocemente i contagi per evitare che poi i più fragili siano contagiati e possono avere delle conseguenze anche molto gravi. Lei consiglia il vaccino antifluenzale? Il vaccino antifluenzale quest'anno la Regione Emilia-Romagna ha voluto che ci concentrassimo soprattutto a vaccinare i bambini cronici, cioè con patologie predisponenti a complicanze gravi in caso di influenza. E quindi stiamo organizzando una partecipazione alla vaccinazione di questi bambini negli ambulatori della pediatria di comunità.